La campagna, anche grazie alla nostra esperienza, possiamo dire che ha avuto delle ottime performance. Dobbiamo distinguere tra numeri ufficiali, quindi pubblici in qualche modo, dove abbiamo raccolto moltissimi messaggi, oltre 9000, ma questi sono solo una piccola parte di quelli che in realtà sono stati veramente postati e scritti. Proprio perché una parte dei messaggi purtroppo sono coperti dai privacy, lo sappiamo tutti che oggi i social sono piuttosto gelosi della possibilità degli utenti di mostrare i propri contenuti. Quindi se andassimo a contare quello, sicuramente arriveremo a una cifra come quella già nominata di 12.000, ma forse ancora di più. L'engagement, ovvero la reazione, quanto gli utenti sono stati legati da questo contenuto, hanno potuto interagire, è molto alta, è oltre un milione. Questo proprio mostra che chi anche non si è mostrato, non ha postato qualcosa di sé, ha voluto lasciare una traccia in questa campagna. E soprattutto in un tempo limitato, perché la campagna di fatto è di un mese, sono numeri molto, molto, molto interessanti. 25 milioni in effetti è un dato che è il terzo pilastro, ovvero sono le impression, coloro che sono stati raggiunti, esposti al messaggio. Come immaginate, sono coloro che comunque hanno potuto interiorizzare questo messaggio e farlo proprio in qualche modalità. E anche in questo caso la campagna è stata molto efficace. L'importanza di utilizzare i social come mezzo per raggiungere gli utenti e raggiungere le persone è, secondo me, anche sarò del mestiere importantissimo. I social media sono un luogo dove noi andiamo a divertirci, ad abbandonare in qualche modo la nostra quotidianità. Ma nel momento in cui noi andiamo a incontrare durante questa nostra fruizione un messaggio importante come questo, è plausibile ed è giusto che questo riesca a segnare più fortemente la nostra esperienza. Sono lì, sto guardando un video, sto leggendo qualcosa di fan e qualcuno mi parla di violenza sulle donne. Non ci avevo pensato ed è quello però il momento più importante per il cambiamento dell'opinione, per il cambiamento in qualche modo della società che è stato più volte nominato.